Ciao Veronica, ciao Tito, ciao Pochissimi secondi e siamo live sul canale, sul gruppo Facebook Lo staff deve accedere l'entrata Adesso lo mettiamo anche in alto No, siccome la trasmetto io non c'è bisogno di accedere l'entrata Eccoci qua, eccoci qua Ci siamo, siamo live Tito, come faccio? Leva la telecamera perché l'ho schierata un po' di tempo fa ma io non riesco più a metterla che mi vedi Capito? Cioè in basso a sinistra dovresti avere una piccola telecamerina Quante belle signore che abbiamo qua Tito dimmi quando siamo pronti No ma siamo live, tu devi partire Siamo live Buonasera, buonasera a tutti al fantastico gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore Che bello, oggi è un'edizione straordinaria Io mi presento, sono Veronica per chi non mi conosce E sono particolarmente felice perché sono io a condurre un'edizione straordinaria L'edizione del venerdì sera Benvenuti a tutte Vedete anche tantissime signore qui insieme a me Ovviamente rispettando le normative Quindi ognuno collegato da casa sua Questo è il bello del mondo online Questo è il bello del nostro lavoro E quindi diamo a tutti quanti il benvenuto e buonasera a tutti quanti voi Sono qui perché ho qualcosa di importante da dire a tutti i 31.000 membri Che sono presenti nel gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore Perché la nostra azienda non termina mai di stupirci con l'arrivo di prodotti nuovi E questa sera invece abbiamo qualcosa di importante da condividere con tutte quante voi Proprio perché amiamo i nostri clienti E siamo felici Vogliamo ringraziare ogni giorno le persone che ci seguono Siamo veramente contenti di darvi una notizia importantissima Ma prima di iniziare Penso che ci sia un bel video da vedere tutte quante insieme Giusto regista? Partecipantissima E vai e vai che inizia Non sentiamo l'audio Forse non so se è un problema soltanto mio Non si sente Veronica Sì sì tranquille tranquille Che Tito è super attento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione, io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. L'Italia è parte dell'Italia. 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 dove qualcuno ti promette qualcosa che poi non ti viene dato beh non siamo noi, noi siamo un'azienda importante una sede molto affermata in Italia la sede è a Latina, la nostra fabbrica è a Latina perché i prodotti vengono creati e sviluppati e progettati dalla nostra azienda e noi vediamo questa possibilità ma vediamo nello specifico cosa fare per aprire una raccolta punti e che cos'è una raccolta punti e come si può abilitare aprire una raccolta punti non comporta nessun obbligo e nessun vincolo nei nostri confronti per aprire una raccolta punti non dovete pagare nulla è completamente gratis la cosa bella è che la nostra raccolta punti a differenza di tutte le raccolte punti presenti nel mercato non ha una scadenza io sono sempre stata vittima, lo racconto sempre delle raccolte punti perché la mia ansia era finisce il termine, scade il termine della mia raccolta punti e non prendo i regali qui non è così, non abbiamo l'ansia del termine raccolta punti ma ancora di più è la cosa speciale che ogni centesimo fa cumulo ricordo e lo racconto sempre alle signore che ci seguono che spesso e volentieri io facevo delle raccolte punti ma mi ero ripromessa di non farne più perché erano più i soldi che spendevo che i regali che andavo a prendere perché? Perché mi davano un punto ogni 10 euro se lo scontrino era di 17, 18 euro io perdevo le 7 euro perché non facevano cumulo ma non solo, ero obbligata ad acquistare solo io perché i punti venivano caricati su una mia card digitale dove ne ero a possesso soltanto io quindi nessuno poteva cedermi dei punti i regali erano soltanto quelli selezionati dal negozio e per averli dovevo sempre mettere un contributo quindi sommando lo stress i soldi che andavo a spendere i punti che perdevo e la quota che dovevo mettere per prendere il regalo ho detto basta raccolte punti non ne voglio fare più finché non è arrivato Magic Cooker Magic Cooker che mi dà la possibilità come ripeto di avere dei prodotti gratis completamente gratis senza termine di scadenza e la cosa bella è che il prodotto lo scegliete voi di tutti i prodotti Magic Cooker quello che vi piace di più sarà il vostro ed è semplicissimo perché bastano solo 5 punti ma un'altra cosa bella che non siete voi obbligati ad acquistare per avere il punto ma grazie ai vostri amici voi potete avere dei punti completamente e acquisire così il punteggio per avere il vostro prodotto gratis ogni punto si può avere ogni 100 euro e pensate che bastano 5-10 vostre amiche che decidono di diventare clienti Magic Cooker e voi avete il punto quindi ricapitoliamo un attimo non c'è scadenza posso prendere tutti i regali che voglio non ho nessun obbligo e nessun vincolo non sono obbligata ad acquistare nulla ma come faccio io ad avere questi punti è facilissimo fare quello che facciamo sempre da quando siamo bambini il classico passo a parola quanti clienti avete portato alla vostra parrucchiera al vostro dentista alla vostra onicotecnica al vostro meccanico ma nessuno mai vi ha regalato nulla beh Magic Cooker vi dice porta dei tuoi contatti all'interno del gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore e noi ti metteremo nelle condizioni di poter acquisire questi punti vi posso dire che tutti quanti voi se siete qui è perché avete un profilo Facebook e sicuramente avrete 100, 200, 300, 500 mille amici su Facebook basta che voi ne invitate soltanto 50 ovviamente quello che vi chiediamo di informarle sempre le vostre amiche che le state invitando nel gruppo di ricette di cucina perché spesso e volentieri se non vengono avvisate non lo sanno e possono non accettare il vostro invito quindi informatele le inserite all'interno del nostro gruppo dove ogni giorno abbiamo da uno a due dirette le vostre amiche seguiranno le dirette e le amiche delle vostre amiche seguiranno le dirette ma anche le amiche delle altre amiche seguiranno le dirette e vi posso garantire che 10, 50 persone che sono all'interno del nostro gruppo se soltanto 5 di loro acquistano una sola promozione voi avete totalizzato circa 500 euro e quindi avete preso i 5 punti quindi cosa dobbiamo fare? invitare delle amiche all'interno di questo gruppo avvisarle e dire alle vostre amiche di invitare le loro amiche che a sua volta inviteranno le loro amiche e se soltanto 5 di loro acquisteranno io acquisisco i punti e quindi posso avere questi prodotti a mia scelta completamente gratis e noi cosa facciamo noi di Magic Cooper? siamo felici di questo tuo obiettivo raggiunto e invieremo a casa il regalo che tu hai scelto completamente gratis e ti dico di più visto che il regalo è un regalo anche le spese di spedizione sono a carico dell'azienda Magic Cooper quindi le spese di spedizione del regalo che tu ti sei conquistata li paghiamo noi quindi diciamo che è tutto gratis e ribadisco senza nessun obbligo nessun vincolo e nessun obbligo di acquisto ma semplicemente facendo il classico passaparola però voglio parlarvi anche di una cosa molto importante ancora più bella per fare le stesse cose la nostra azienda vi mette nelle condizioni di ottenere ancora di più e allora ci sono diverse raccolte persone che hanno deciso di fare una raccolta punti come lo è stato per me dove dopo aver inserito delle persone delle amiche all'interno del gruppo Facebook amica portamica amica portamica oggi mi ha chiamato una signora che io non conosco ma è amica di un'amica di un'amica di una mia amica di una mia cliente quindi ho il microfono acceso e quindi cosa succede? Amica portamica amica portamica queste fantastiche signore oggi mi hanno chiamato che volevano acquistare la promozione del momento quindi io neanche la conoscevo ma il classico passa parola e allora molte signore che hanno deciso di aprire la raccolta punti poi avendo nel gruppo tante amiche hanno detto scusa ma per fare le stesse cose posso avere ancora regali? e noi diciamo sì ma puoi anche guadagnare del denaro e diciamo la verità di denaro in questo periodo fa comodo a tutti ma vediamo insieme come posso trasformare la mia raccolta punti in un'opportunità di guadagno innanzitutto la cosa che ci teniamo a precisare è che Lifeprime e l'azienda con il brevetto Magic Cooker offre un'opportunità sartoriale io la definisco sartoriale a misura d'uomo perché la gestite voi perché è un'opportunità fatta su misura siete voi a decidere quando lavorare come lavorare dove lavorare non avete un capo non c'è un padrone ma siete persone libere e chi decide di essere una consulente Magic Cooker lo fa perché vuole decidere di risparmiare in quanto tutte le consulenti Magic Cooker hanno la possibilità di avere i prodotti in arrivo in anteprima con un super prezzo riservato alle consulenti quindi posso entrare per poter risparmiare oppure posso decidere di essere una consulente Magic Cooker perché voglio risparmiare ma voglio anche guadagnare del denaro oppure perché no sono forse una mamma ho già un lavoro che mi impegna ma voglio guadagnare del denaro ma avere più tempo a disposizione così che a casa posso accudire i miei bambini i miei nipotini costruendomi un'entrata autonoma indipendente che mi mette nelle condizioni di guadagnare del denaro che fantastica opportunità lavorare da casa essere delle mamme imprenditrici online la nostra azienda vi dà la possibilità di avere da subito un sito personale su una piattaforma Life Prime Magic Cooker pensate un ufficio online ospitato sempre sulla nostra piattaforma Life Prime dove potete controllare i vostri pacchi i vostri ordini i vostri clienti le vostre giocenze un negozio online che voi potete avere aperto H24 un negozio che non da vecchia imprenditrice perché ho avuto un'attività commerciale che non vi comporta spese di affitto di luce di inventario di investimenti perché ci pensa sempre Magic Cooker per me quindi un negozio che non mi porta dei rischi e la cosa anche fantastica è un servizio di back office delle operatrici meravigliose come Jessica come Alessandra che sono a nostra completa disposizione da lunedì al venerdì che gestiranno eventuali problemi legati a una fattura a una spedizione a un reso o quel che sia tutto questo completamente gratis io sono una donna una mamma imprenditrice forse sentite qualche rumore ma qualche mia amica ha il microfono aperto e mi permette nelle condizioni di essere un'imprenditrice senza nessun rischio dove non devo anticipare dei soldi dove non devo pagare niente a nessuno perché la mia azienda ci penserà a lei per me il mio compito qual è? quello di invitare sempre più amiche al mio gruppo di fare il passaparola e di parlare di Magic Cooker il divo di acciaio che ha conquistato il cuore di tante donne che fantastico opportunità ma non finisce qua perché la mia azienda oltre io la dico mia perché la sento mia oltre a darci la possibilità di tempo e di guadagno ci dà anche dei premi aggiuntivi da pochissimo tempo circa una settimana le consulenti Magic Cooker hanno conquistato una marea di regali che hanno scelto loro perché i regali li scegliamo sempre noi e quindi tanti premi aggiuntivi e allora soldi guadagno tempo e premi aggiuntivi per fare cosa per stare nel mondo online invitare le mie amiche e parlare sempre con tutti di Magic Cooker che fantastico opportunità e la cosa bella sapete qual è che a me ha tantissimo affascinato che sono un'imprenditrice autonoma ma non sono lasciata a te stesso perché noi lavoriamo di squadra noi siamo una squadra ci aiutiamo siamo una famiglia e non vi dico che spesso la sarà sui gruppi scherziamo riviamo condividiamo tantissime cose sono nate delle amicizie fantastiche delle amicizie meravigliose con persone che mai avrei potuto conoscere se non grazie all'amore che abbiamo per Magic Cooker nel mondo sempre online quindi quanti vantaggi dà questa fantastica azienda sono veramente tanti sono veramente tante le opportunità che dà la mia azienda e per iniziare dopo aver fatto questa fantastica raccolta punti quindi conquistati i prodotti che vi piacciono noi vi diamo la possibilità di iniziare da subito con una provvigione del 19% quindi tutto ciò che le mie amiche o le amiche delle mie amiche decidono di acquistare a me arriverà un guadagno pari inizialmente ovviamente del 19% ma aumenterà sempre di più andiamo a vedere un attimo alcuni guadagni iniziali dal 19 pensate possiamo arrivare al 23,5 al 28,1 al 30,5 al 32,7 al 39% ma si può diventare anche dei member come lo sono io come lo sono tantissime altre donne che fanno parte di Magic Cooker dove si può guadagnare pensate il 2% fatturato mondiale il 4% a salire sempre di più e i guadagni quali sono? Stando a casa continuando a fare le mamme quindi mentre stiro c'è la diretta la guardo ma c'è la mia amica che sta guardando e acquista che posso guadagnare cifre come 400 euro 1500 euro 3000 euro 5000 euro 10.000 euro 15.000 euro questo mese una fantastica mamma di due gemelli arrivate a guadagnare anche 20.000 euro stando a casa e tutto questo lo si può fare soltanto come se ami la vendita personale sei consapevole che tutto questo dipende da te quindi più amiche invite più le tue amiche ti aiuteranno ad inserire amiche all'interno del gruppo più tu fatturerai più tu guadagnerai più tu sei felice più lo siamo anche noi però voglio dirvi la verità voglio continuare a sorprendervi perché la nostra azienda vi dà anche la possibilità di avere una possibilità di guadagno ancora più veloce che è un po' quello che stiamo facendo tutti quanti noi quindi lo sveliamo anche a tutti quanti e voi signori che ci state seguendo ed è la strada più veloce pensate potete passare dal 19% al 28% in un attimo perché basta promuovere a tutte le vostre amiche la possibilità di avere i prodotti gratis e pensate se soltanto 5 vostre amiche decideranno di avere i prodotti gratis e la mia amica si chiude il microfono così non ci disturba loro prenderanno i prodotti gratis ma tu passerai al 28% guarda com'è bello più faccio dei favori e più l'azienda mi gratifica con aumentandomi di percentuale e di conseguenza dei guadagni ma ripeto vero ma dimmila poco ma per fare tutte queste cose che devo fare niente lo ripeto devi solo invitare le persone all'interno del gruppo informarle che entrano nel gruppo e dire alle tue amiche di invitare le sue amiche amica portamica amica portamica amica portamica io da un'amica che ho invitato alla mezzia mi sono trovata le sue amiche della Germania che io mai avrei conosciuto se non grazie sempre a Magic Cooper che mi dà questa grande possibilità ora c'è uno special guest importante ve lo svelerò fra un po' ma prima di bastare allo special guest io vi chiedo qual è la strada che volete percorrere quella di aprire una raccolta punti e noi siamo pronti stasera ad abilitare la raccolta punti a tutti gratuitamente oppure la strada vostra in questo momento è quella di iniziare una carriera Magic Cooker e quindi diventare delle consulenti Magic Cooker le strade sono due e quale devi scegliere questo lo sai soltanto tu che sei qua noi possiamo darci un consiglio e possiamo dirti che siamo accanto a te che non ti lasceremo mai e che saremo sempre pronti perché ricordate questo è un concorso dove non ci sono dei perdenti ma tutti i vincitori può sembrare forse impossibile anche io dicevo no ma è troppo bello è impossibile io vi dico che l'impossibile non esiste quindi togliamo la I togliamo la M e diciamo che è possibile perché lo è possibile e lo è stato per tantissime donne lo vedete sul nostro gruppo che tantissimi ogni giorno scrivono ho vinto questo grazie all'azienda ho ricevuto il primo regalo il secondo regalo se per voi è strano e non ci credete scrivetelo in privato chiedetemi ma come hai fatto e loro vi sveleranno come è stato semplice e allora sono veramente felice e contenta di presentarvi una signora una fantastica signora che è lo special guest di questa sera una signora che io non avrei mai potuto conoscere se non grazie al mondo online ricordo era una sera di aprile stavo mangiando con la mia famiglia e arriva un messaggio su un messenger di una persona che non conoscevo e che mi dice sai ho visto la promozione vorrei acquistarla ovviamente è nata una conversazione tra me e la signora da lì ovviamente con la signora è nata una bellissima amicizia un'amicizia che abbiamo condiviso con Chiara con Katia con Palma con tutti quanti noi del mondo Magic Cooker e tutto il resto è il momento è il caso che ve lo dice lei allora sono veramente felice di presentare una di voi una signora che è qui del gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore che è la nostra fantastica Morena Ferrante ci sei Morena? eccomi qui ciao a tutte ciao che presentazione che Veronica che bella che sei è vero come stai innanzitutto Morena non ci siamo mai conosciute se non virtualmente come stai? bene bene qui noi siamo in zona arancione quindi siamo bene fortunata tu è ancora zona rossa noi abbiamo finito la dad quindi gioiamo che bello sono contenta allora Morena guarda qui ci sono tantissime signore che ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo vuoi raccontare quando sei entrata su questo gruppo perché ci sei entrata parla un po' tu raccontati tu allora io venivo già da un periodo molto abbastanza provante per me perché avevo perso da poco mio marito improvvisamente e perso il lavoro dopo sei mesi e mi sono ritrovata in lockdown con la mia figlia più piccola eravamo da sole e cosa facciamo? abbiamo cominciato a guardare un pochettino su Facebook ormai in televisione abbiamo già visto tutto non c'era più niente da vedere poi non volevo farle sentire tutte le notizie e quindi ho deciso di accedere su Facebook e mi sono diciamo incrociata per sbaglio nel gruppo Magic Cooker e lì mi sono ricordata di avere nel cassetto un vecchio coperchio ma ho detto ma questo coperchio è lo stesso che mi stanno pubblicizzando e quindi sono rimasta affascinata a me piace cucinare in quel periodo eravamo tutti quanti pronti per essere tutti per partecipare tutti quanti a MasterChef perché ormai pubblicavamo tutti i giorni e quindi ho pensato dopo aver fatto una bella chiacchierata con te e tu mi hai proposto anche la raccolta punti dopo il primo acquisto ho detto ma sì ma perché non costa nulla tanto se non ci riesco qual è il problema ho provato tanto non c'è scadenza vi posso assicurare che nel giro di poco tempo io ho guadagnato i miei due premi e all'epoca non era facile come adesso perché dovevo raggiungere 1800 punti quando ho raggiunto i miei primi due punti dei miei due primi miei regali ovviamente ho scelto i più belli ovviamente la linea vulcanica ovviamente perché come farsi scappare e mi sono accorta che non facevo niente di speciale pubblicavo sulla mia pagina facebook tutti i piatti che cucinavo perché ero solita farlo già normalmente e le mie amiche mi telefonavano mi mandavano dei messaggi mi dicevano ma come hai fatto ma veramente funziona ma fammi capire e quindi è nata un pochettino questo passaparola lo ho fatto entrare nel gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore e loro hanno cominciato a dire vabbè sai che mi prendo una pentola mi prendo un coperchio regalavamo una pentola è un affare e così dopo aver fatto tutta la mia raccolta punti Veronica Chiara e Katia mi hanno invogliata a continuare non avevo un lavoro e io cosa dovevo fare di più niente di più di quello che già facevo ma la cosa bella è che i miei ordini arrivavano mentre io ero guardata la televisione mentre guardavo la televisione mi arrivava la telefonata dell'amica e dice ah sai oggi ho visto in diretta la signora che cucinavo con quella con quella pentola che dici me la vuoi prendere la mia amica vuole due coperchi e un passaparola e quindi io ho conosciuto come dicevi tu Veronica tante persone che non mai avrei potuto incontrare in vita mia o persone che ho conosciuto che sono a Pisa a Firenze persone che le amiche mi hanno mi hanno indicato e la cosa più bella che questa azienda fa è proprio creare un gruppo di amicizie perché non sono mai stata lasciata da sola sono sempre stata supportata e sopportata soprattutto i primi periodi per gli ordini le mille domande le mille incertezze è diventata una grande famiglia adesso è veramente la mia seconda famiglia sono stati vicini a me e anche nei miei momenti bui e quindi devo dire solo grazie a Veronica Katia Palma Chiara e anche Tito tra virgolette perché insomma con Tito abbiamo avuto anche degli zoom e quindi anche lui e sono l'unica cosa che io posso consigliarvi è non perdere l'occasione perché a me mi è stata data e come mi è stato è stata data a me io l'ho voluta dare anche alle mie amiche perché non è vendere il magic cooker è veramente dare la possibilità di mangiare sano di risparmiare e dare l'opportunità a chi in questo momento soprattutto non non può permetterselo e e quindi con la raccolta punti ricambiamo il favore poi se le nostre amiche vogliono continuare volete continuare vi posso garantire che non farete niente di più di quello che già fate avrete tante soddisfazioni come diceva Veronica abbiamo ricevuto una marea di regali facendo niente di più di quello che facciamo tutti i giorni e poi il lavoro grande lo fanno loro il grande staff delle ricette del cuore sono loro che fanno le dirette si impegnano e grazie a loro noi riusciamo a crescere io ve lo consiglio tanto perché entrare in questo mondo è un mondo fantastico dove è possibile fare tante amicizie io vi farei vedere quanto come dice Veronica sui gruppi whatsapp quante risate quante ricette ci vengono scambiate nascono veramente tante amicizie cosa dirvi di più io vi consiglio veramente di aprire la raccolta punti perché tentare non costa niente vedrete quanto è facile e quante amicizie farete non vi sentirete neanche più sole perché veramente in questo momento veramente che siamo tutti un po' chiuse in casa o limitati sentirsi per telefono fare una video ricetta con una cliente con un'amica e cucinare insieme mentre durante la dad era ovviamente tutti eravamo impegnati con i ragazzi e quindi una video chiamata con un'amica e dice cosa vogliamo cucinare oggi cuciniamo insieme hai difficoltà ti aiuto facciamo una video chiamata e che dire la cosa più bella è entrare in questo mondo perché si trovano veramente tante amicizie io proprio per il periodo brutto che avevo passato ero rimasta un pochettino isolata e avevo bisogno veramente di un di un supporto di amicizia e sono nate delle vere amicizie veramente devo dire grazie a Veronica che inizialmente mi ha convinta ad entrare in questo mondo perché anche io come tutte ve lo posso dire ero scettica dice ma chi ti regala niente che è possibile che mi regalo il supermercato me lo fa pagare questo mi regalo ma quando è arrivato il corriere la prima volta con il mio primo regalo con i due regali vi posso dire che è stata una gioia immensa signora ecco il suo pacco ma devo qualcosa assolutamente niente e poi l'azienda ecco io dopo ho fatto un percorso scelto di di entrare in questo in questo mondo e l'azienda continua a fare regali anche a noi consulenti che bello morena io sto cercando di trattenermi però dopo aver rivisto tutta quella cosa e ritornano in mente tante cose tu ti sei emozionata anche perché tu sei sì tanto mi emoziono tanto perché ti ripeto a volte anche per noi donne veniamo poco apprezzate siamo il motore della casa della famiglia però a volte passa un pochino tutto spuntato per i figli per i mariti questa è un'azienda invece che ti fa sentire importante un'azienda che riconosce i tuoi sforzi e ti gratifica per ogni sforzo che tu fai e poi la cosa bella sono le amicizie le amicizie che nascono cioè io non c'è mattina la mattina vi posso assicurare che la prima telefonata è quella che mi arriva di Chiara Chiara che mi dà il buongiorno la milanese doc che arriva Veronica e anche se la giornata è un po' triste lei ti regala il calore e il colore della giornata e poi morena come hai detto tu abbiamo la possibilità di conoscere tantissime persone io ho avuto il piacere di conoscerne tante come te e tu sei stata un valore aggiunto nella mia vita e anche per tutto noi per tutto lo staff di Maggi Cooper perché sei veramente una donna posta te l'ho detto anche oggi al telefono sei forte ci fa piacere se abbiamo potuto contribuire in un momento particolare dove ti sentivi un pochino sola perché eravamo in lockdown a farti compagnia e se oggi hai trovato un'opportunità di lavoro che ti permette di guadagnare a casa con la tua bambina siamo veramente tutti tutti molto contenti e poi la cosa bella non so se Tito riesce a farlo vedere in proiezione Facebook di tutte queste donne qui c'è soltanto una piccola ma piccola ma piccola parte perché siamo in tantissimi siamo più di duemila consulenti la cosa bella è di vedere come stiamo lavorando e vedo Francesca che sta cucinando vedo Cinzia che sta facendo le sue cose questa è una delle tante cose belle che dà dà il nostro lavoro perché mentre stiamo lavorando cuciniamo studiamo seguiamo i nostri figli con la dad a differenza di un altro lavoro che purtroppo ti prende del tempo e ti porta ad uscire di casa e quindi a fare tantissimi sacrifici arrivi a casa e dici mamma che brutta giornata di lavoro invece noi quando lavoriamo siamo felici e siamo contenti grazie tantissimo di cuore Morena grazie a te grazie a tutti grazie a voi grazie a voi grazie veramente tanto grazie perché sei stata formidabile la tua testimonianza speriamo possa essere di aiuto alle signori che comunque ci stanno ascoltando o comunque tutti coloro che hanno aperto la raccolta punti questa settimana siamo a 172 quindi veramente tante che possono comunque medesimarti anche nella tua di storia ogni venerdì ne racconteremo una e quindi dire ma perché no ci provo anch'io poi c'è chi lo vuole fare per guadagnare del denaro chi lo fa per guadagnare dei prodotti chi lo fa semplicemente per avere un po' di compagnia per trovare delle amicizie per avere quell'appuntamento giornaliero le motivazioni possono essere tante ma qualsiasi sia la motivazione noi di Magic Cooper siamo qui guarda io vedo lo schermo non so se tu Morena lo vedi e sto vedendo tutte le cuccherine chi è in giro tutto quello che stanno facendo lo stanno facendo tranquillamente continuando da casa e comunque guadagnando del denaro quindi è veramente fantastico e strepitoso e allora Morena penso che ti unisci al mio pensiero quello che stendiamo a tutte le signore qui presenti di cogliere questa opportunità si dice che le opportunità diceva mia nonna passano una volta sola quindi sta passando questo treno salite perché il viaggio con noi è fantastico è meraviglioso vi possiamo assicurare che io insieme a Tito Chiara Katia Palma tutte le consulenti Magic Cooper a tutto lo staff le ricette del cuore siamo pronti a sostenervi e vi promettiamo che tutti vincete qualcosa è un concorso dove non ci sono perdenti ma ci sono soltanto vincitori se siete qui e avete deciso avete qualche dubbio qualche perplessità potete contattare la vostra referente di fiducia oppure uno degli amministratori o moderatori del gruppo o perché no abbiamo attivato da ieri giusto Morena un servizio assistenza alle ricette del cuore quindi c'è un numero telefonico che vi verrà dato dove potete parlare direttamente con un'operatrice che vi darà tutte le informazioni e vi metterà poi in contatto con la referente più vicina noi ringraziamo tutti i presenti perché tra Zoom e Facebook siamo veramente in tantissimi e li salutiamo Morena e gli diciamo che li aspettiamo con noi vero? assolutamente sì vi troverete in ottima compagnia ci divertiamo anche tanta buona notte e poi non dimentichiamo che l'azienda ci dà l'opportunità anche di imparare tanto con le vostre esperienze potresti parlare anche un po' di me vero ok grazie Morena grazie di cuore per il tuo supporte e il tuo aiuto grazie veramente tanto grazie a tutte le signore che hanno seguito la nostra live vi ringraziamo di cuore e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e attivate la vostra raccolta punti ciao 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 ciao